Buon pomeriggio, ben trovate, ben trovati, siamo a un nuovo appuntamento del Festival della Salute Globale in questa iniziativa online di dialoghi su varie tematiche e oggi pomeriggio ospitiamo con il network italiano della salute globale Sabba Anglana, che è la testimonial del network, ma soprattutto è un'artista poliedrica, se così si può dire, attrice, cantautrice, conduttrice radiofonica, era in tournée con Ulisse, un bellissimo spettacolo di cui è protagonista insieme a Marco Paolini, tournée interrotta dal Covid-19, dalla pandemia che ha travolto tutto e quindi diciamo anche lei ha risentito come tutte noi, come tutti noi di questo fermo, tra l'altro i due mondi che si incontrano oggi, quello della cooperazione internazionale e quello dell'arte, in realtà hanno vissuto in maniera un po' diversa questo periodo, soprattutto il lockdown, perché il mondo degli artisti, come sappiamo anche da quello che leggevamo in questi giorni, è stato completamente fermato, bloccato dalla pandemia per tutta una serie di motivi legati alla sicurezza sanitaria, mentre invece appunto il mondo della cooperazione di fatto rientra in quella parte di mondo che non si è mai fermata, che non si è mai fermata non solo perché la cooperazione sanitaria è stata chiaramente in prima linea sia in Italia che nel resto del mondo, ma anche perché tutta una serie di iniziative e di servizi che vengono rivolti alle parti più vulnerabili, più deboli della popolazione, sono svolti spesso dalle ONG, dalle organizzazioni della società civile. Per chi non lo conoscesse il network italiano della salute globale è una rete di circa 10 organizzazioni della società civile, quelle che una volta si chiamavano organizzazioni non governative, è impegnato da quasi 20 anni sul fronte tra l'altro delle pandemie, perché è nato come osservatorio per la lotta all'AIDS, poi nel corso degli anni con il lavoro sul campo si è capita la grande connessione che c'è tra il diritto alla salute globale e la lotta alle pandemie e quindi negli ultimi anni è diventato network salute globale e il lavoro è diventato a tutto campo, tra l'altro è attivo anche nelle reti che in questo momento stanno lavorando per l'agenda 2030 delle Nazioni Unite in cui il diritto alla salute è uno di quelli principali, uno dei primi. Vorrei cominciare per rompere il ghiaccio di questi dialoghi che per quanto ci siamo abituati, rimane sempre molto difficile non avere la presenza, la fisicità e il corpo al corpo quando si intervista una persona. Volevo chiedere appunto a Sabba che da sempre è impegnata nel privato sociale, è stata la testimonial di diverse organizzazioni della società civile prima ancora di essere testimonia del network, che cosa significa testimoniare la salute globale nell'epoca della pandemia? Tra l'altro tu hai vissuto il lockdown in una delle regioni maggiormente colpite in Italia perché vivi in Piemonte e quindi ancora di più forse sentito lo stare chiusa e il non poter fare tutta una serie di attività. Intanto la parola testimonial a cui tu mi richiami anche con un certo rigore proprio anche di ruolo, così com'è giusto che sia, rimanda a un concetto che tu hai nominato poco fa, cioè il concetto di presenza che è fondamentale, cioè essere testimonial significa essere presenti non soltanto a se stessi, come è auspicabile in tutti i casi, ma anche presenti alle situazioni che si vanno poi a raccontare a un pubblico di persone che vorrebbero dare il loro contributo perché problemi che riguardano noi e gli altri si possano risolvere. Quindi questo concetto di presenza e di presa di coscienza è fondamentale quando si fa il ruolo cosiddetto di testimonial e oltre a quello c'è anche il grande compito di presenziare fisicamente, quando si va fisicamente a vedere con i propri occhi come può cambiare la situazione di un paese, di un villaggio, di un piccolo o grande nucleo sociale attraverso gli aiuti che vengono dall'esterno e che cosa sono gli aiuti e che cosa cambiano realmente questi aiuti. Quindi la figura del testimonial in realtà è una figura sottovalutata da un certo punto di vista dei testimonial stessi. Io tra virgolette mi sono guadagnata questo ruolo con un curriculum inconsapevole, ho costruito parte del mio lavoro di artista attraverso l'osservazione proprio della salute dell'essere umano, sia nel senso microscopico del termine, quindi la salute personale, che macroscopico su scala più generale. Ho raccontato per esempio nell'ultimo album come la salute di una città dipenda dalla salute del suo nucleo, cioè dalla sua pancia. La pancia è formata da delle persone fisiche che abitano dei centri in cui si è sedimentata nel tempo la tradizione, per esempio, la cultura più popolare, eccetera. E se una società come quella a cui ho fatto riferimento con l'ultimo lavoro, per esempio la società etiope, Addis Abeba, capitale di questa grande nazione che ha attualmente l'11% di PIL di crescita, questo oltre la città. Ho parlato di acqua nel mio lavoro, in un altro album, come l'accesso all'acqua è un diritto fondamentale, qualcosa di cui si è dibattuto anche in Italia. Noi pensiamo di essere lontani da certe problematiche, pensiamo di essere, e così effettivamente è, in un paese fortunato, però rapidamente, in maniera brusca le situazioni possono ribaltarsi, così come è successo nel Covid, con questa emergenza che ci ha messo sotto gli occhi, come nessuno è realmente immune dalle emergenze e come una visione di una salute globale riguarda noi stessi, anche se non siamo coinvolti oggi, potremmo esserlo domani. Quando un artista si occupa di felicità, anche semplicemente, di stare bene, non può prescindere da un occhio rivolto verso la salute fisica delle persone che sono vicine, ma anche quelle lontane. Tra l'altro hai accennato a una delle questioni che forse sono immerse in maniera più forte in questi mesi, il fatto che siamo estremamente tutte e tutti interconnessi con l'ambiente circostante. Tu prima nominavi la questione legata alle tematiche dell'acqua, ma potremmo parlare dell'inquinamento, di tutta una serie di questioni che hanno evidenziato come la salute umana è legata alla salute degli animali, alla salute del mondo vegetale, del mondo che tutto ci circonda e tra l'altro tra le iniziative con le quali ti abbiamo coinvolto e ti abbiamo richiamato a questo ruolo, vorrei ricordare anche il video che l'anno scorso facemmo insieme a te apri alla salute, che era appunto un primo lavoro di sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana rispetto a queste tematiche importanti della salute globale, perché effettivamente su questo poi tra l'altro da tempo c'è un impegno grosso all'interno del mondo della cooperazione internazionale, c'è il fondo globale che è attivo da circa 20 anni e che appunto da sempre ha messo al centro queste questioni e si è cercato appunto di far capire quanto era tutto collegato e tra l'altro in questi mesi non a caso le ONG del nostro network, ma anche chiaramente tutto il mondo della cooperazione internazionale si è mossa proprio su più ambiti, non semplicemente e solamente nell'ambito della cooperazione sanitaria, ci sono state per esempio alcune ONG del network, penso a Copi, che hanno lavorato in questi mesi per mantenere alto l'attenzione anche sul diritto allo studio e hanno fatto lavoro di formazione nelle aree del Niger, nelle scuole dove sono presenti per far appunto conoscere agli studenti, alle loro insegnanti quali erano le problematiche legate alla pandemia, ci sono state altre ONG che lavorano per esempio in luoghi un pochino più difficili come potrebbero essere le baraccopoli del Kenya, dove lì per esempio c'era il problema oggettivo del distanziamento sociale, del far prendere le distanze a persone che vivono in situazioni sicuramente molto diverse da noi che viviamo nelle città europee, nelle città occidentali. Hai nominato la salute mentale e mi viene in mente per esempio il lavoro fatto dalle cooperanti di Aidos in Giordania che stanno lavorando con un progetto in alcune cliniche dove in particolar modo si prendono cura delle persone con disabilità varie, quindi anche la disabilità e il disturbo mentale e tra l'altro in maniera trasversale in tutti questi ambiti di lavoro sul campo all'estero così come in Italia si è potuto anche vedere, l'hanno detto poi anche le grandi istituzioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e non solo, che a pagare un prezzo più alto nella pandemia spesso e volentieri sono le donne che rimangono doppiamente colpite dalle problematiche di salute perché poi spesso accanto a quelle c'è un problema di povertà, di violenza che possono subire in certi contesti, l'aver tenuto chiuse molte donne dentro casa in questi mesi in tutti gli ambiti, nei luoghi del mondo ha significato anche che subissero più violenze di ogni tipo. Abbiamo nominato l'Africa, che effetto ti ha fatto che è una tua terra d'origine? Hai un pezzo di radici là, in Etiopia, in Somalia, che effetto ti ha fatto in questi mesi leggere anche notizie da lì? Non so se tu hai contatti diretti ancora, tra l'altro anche come dire, visto che oggi parliamo di comunicare la salute globale, comunicarla anche attraverso l'arte, da comunicatrice dico che è molto difficile perché ci sono tanti pregiudizi, ci sono tanti, soprattutto nei mesi precedenti al Covid, la cooperazione internazionale, il mondo dell'ONG, in particolare in Italia ha subito molti attacchi e quindi è sempre molto difficile far passare poi il messaggio di quello che realmente viene fatto. Rispetto alla tua terra d'origine cosa ci dici? Guarda, intanto sono molto contenta di quello che tu hai detto perché intanto fammi dire soltanto questa cosa, in queste discussioni legate alla salute globale c'è sempre la parola globale che torna, una parola un po' controversa, una parola che alcuni non amano moltissimo, tutte le volte che si apre una finestra sull'Africa, soprattutto in questi momenti in cui andiamo nei social network e per cui ci sono anche degli spot legati a quello che si può fare per i paesi meno fortunati, si percepisce di rimbalzo un senso quasi di fastidio per dire abbiamo noi i nostri problemi, figurati se abbiamo la forza, la facoltà, l'energia fisica e mentale per pensare agli altri. È fondamentale pensare al fatto che in questo caso la parola globale è fondamentale per comprendere questa appartenenza ad una grande famiglia mondiale come se fossimo una parte di un organismo intero, se si ammala il piede noi potremmo anche continuamente pensare di poterlo abbandonare questo dolore, di ignorarlo, ma poi questo dolore si trasmette nelle altre parti, potrebbe comunque essere la cartina di tornasole di problemi che stanno a monte, stanno fisiologicamente in altre parti anche più vitali del nostro organismo. Quindi la parola globale che spendiamo tantissimo in queste dirette durante tutto anche il festival che così in maniera lungimerante pensa a una visione d'insieme, ci impone una presa di esame di questa appartenenza ad un unico organismo. Così quando io vedevo l'Etiopia, le notizie per tornare alla tua domanda, le notizie di Addis Abeba attraverso i famosi hashtag, attraverso Twitter e tutte le varie fonti di informazioni che potevano in presa diretta darmi un po' il polso della situazione, ecco non mi sembrava di buttare un occhio lontano da me, ma non per le mie origini, ma semplicemente perché proprio questa visione globale anche di un virus che non conosce frontiere, ci impone a sentirci parte di un organismo intero, per cui non possiamo dirci fuori dalla pandemia se non l'ultimo dei paesi può dichiararsi fuori dall'emergenza. Molte delle ONG del network che sono state attive, presenti in questo periodo in varie regioni del mondo, hanno proprio testimoniato il fatto che anche laddove i sistemi sanitari non sembravano essere così all'avanguardia, attrezzati come quelli del nostro mondo occidentale, in realtà in molti paesi si sono rivelati molto più agili o comunque hanno risposto bene. Un cooperante nei giorni scorsi mi diceva che effettivamente le ONG hanno risposto con grande flessibilità e velocità alla pandemia, soprattutto appunto nei paesi del cosiddetto sud del mondo e diciamo in via di sviluppo e quindi questo ha permesso tra l'altro una cosa che in Europa invece è successa, abbiamo visto anche con grandi polemiche un po' dopo, in molti paesi c'è stato un lockdown immediato, molti hanno preso esempio proprio dall'Italia, per esempio appunto la Giordania mi raccontava questa cooperante di Eidos che in Giordania il lockdown è partito immediatamente in maniera estremamente rigida e questo per esempio ha permesso di tenere sotto controllo anche la situazione nei campi rifugiati e profughi che in Giordania accolgono migliaia di persone, voi vi potete immaginare che cosa sarebbe potuto accadere se fosse partita qualche focolaio grosso dentro un campo del genere e questo diciamo anche come dire racconta un modo di vivere non solo la salute in maniera differente da come la viviamo noi perché giustamente prima Sabba diceva quando stiamo bene non ci preoccupiamo minimamente del dopo, del futuro e pensiamo solamente appunto al nostro stare bene, non ci preoccupiamo molto di chi in altri paesi ha dei sistemi sanitari ancora diciamo non completamente strutturati, non completamente costruiti e tornando anche diciamo un po' al tema della giornata che è quello di comunicare la cooperazione internazionale, comunicare la salute globale in maniera differente non semplicemente con un comunicato stampa ma anche appunto con le parole e i linguaggi dell'arte vorrei anche ricordare che un paio di anni fa abbiamo fatto un progetto con un fotografo di fama internazionale Francesco Cocco che ha documentato il lavoro dell'ONG del network in Burkina Faso e per esempio lì c'erano delle immagini molto belle in quella che poi è diventata una mostra che hanno fatto vedere come per esempio a differenza di noi in Europa che per noi diciamo è immediato andare al pronto soccorso per qualunque tipo di problema anche quello diciamo un pochino più blando ci sono persone lì che partono la mattina presto con la loro valigetta per arrivare a chilometri di distanza dopo un lungo cammino al primo diciamo dispensario medico al primo presidio sanitario quindi come dire la pandemia ci ha restituito anche questo grande racconto globale volendo tornare a quella parola che giustamente sottolineavi tu e anche come dire messo in luce perfettamente quello che la cooperazione internazionale dice da sempre il fatto sia che esistono fasce di popolazioni vulnerabili che non hanno accesso a tutta una serie di diritti e di possibilità rispetto alla salute all'istruzione alla diciamo la lo sviluppo economico la la sicurezza del lavoro non hanno accesso a tutto questo che poi è tutto insieme salute globale e queste parti di popolazione chiaramente in questo momento sono state quelle diciamo su cui si è rivolto maggiormente anche l'occhio delle ONG del network fermo restando che alcune di loro hanno lavorato contemporaneamente come dicevo all'inizio anche in Italia perché alcune ONG per esempio sono state molto presenti a Bergamo a Milano a Crema diciamo in alcune delle a Brescia in alcune delle città più colpite in Italia perché lì hanno diciamo la sono radicale nel territorio lì hanno le loro sedi e quindi c'è stato anche questo come dire no andate il ritorno da situazioni diciamo di disagio non solo all'estero ma anche nel proprio paese e e a proposito di questo volevo chiedere a Sabba di raccontarci un po' quelle che sono state le sue esperienze sul sul campo perché lei appunto comunque ha visto con i propri occhi alcuni progetti portati avanti dalla società civile della cooperazione internazionale e probabilmente sentirli raccontare da lei ha appunto una un suono un tono differente diciamo che non è quello istituzionale di chi fa comunicazione per per la cooperazione tanto si restituisce un ricordo così che mi è fatto venire in mente eravamo con Amref nella savana per cui io ho visto questi mosaiche al collo avevano non le tradizionali collane o meglio tradizionali collane ma customizzate in maniera un po' particolare cioè spuntava un bellissimo cellulare no da darle i collane ma cosa ci fanno la savana molto facile loro camminano anche mezza giornata per arrivare al villaggio con l'energia elettrica attaccano il cellulare e poi tengono il cellulare per le emergenze perché a proposito a proposito di che cosa fanno le ong sul campo una come come amref per esempio che fa parte appunto del network mette a disposizione ai masai la possibilità di associarsi di pagare una cifra simbolica per far sì che in qualsiasi momento dell'anno un masai in difficoltà con problemi di salute seri potrebbe telefonare col suo cellulare a nairobia lì headquarter e siete lì i flying doctors partono e arrivano a terrano in maniera un po' improbabile nella savana e prendono insomma i masai riportano in un centro medico specializzato in ospedale per dire che la salute questo continuo monitorare la salute di ogni parte della società all'interno di un paese nei villaggi anche più remoti da veramente misura del grado di civiltà di una di una nazione e di un intero pianeta dimmi come tratterà gli ultimi e ti dirò chi sei cioè un grado di civiltà di una nazione si misura su su come effettivamente si prende cura anche dei più deboli io ho visto dei villaggi cambiare la loro faccia completamente attraverso una pipeline cioè attraverso la costruzione di condutture d'acqua o la realizzazione di un pozzo anche piccolo grande come una piscina cioè creare una forma di indotto una micro economia che sorregge un intero villaggio questo significa anche investire in termini di pacificazione non per non che l'economia diventi volano attraverso cui poi c'è lo sviluppo ma è la in realtà la salute il vero motore per lo sviluppo di un paese ci sono dei paesi industrializzati apparentemente tecnologicamente molto ma le persone si ammalano per esempio come abbiamo detto all'inizio di di forme di una malattia dell'anima della mattia della psiche cioè la salute in realtà dovrebbe essere alla base di tutto quanto e la tecnologia e l'economia dovrebbe sicuramente fare essere a servizio della salute io ricordo a malindi per esempio una un episodio che mi ha veramente molto colpito e mi ha responsabilizzato non soltanto come artista ma come essere umano ma l'indic conoscete una è una una parte del mondo abbastanza dopata di di resort di aperitivi al tramonto di di strutture di divertimentifici diciamo che sono lontani anni luce da una realtà invece molto presente molto vicina geograficamente a quella costa cioè nell'entroterra appena 3 4 chilometri ci sono dei villaggi in cui i bambini muoiono di fame l'ho visto con i miei occhi ho visto bambini famosi bambini dell'iconografia tristissima purtroppo del paese dell'intero continente africano che purtroppo un po una la croce di un continente continuamente identificato con i bambini con la pancia gonfia ma io l'ho visto i bambini così veramente a un passo da 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 perdere la loro vita per la mancanza di 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 sostegno la mia il fatto di non la mia impotenza in quel caso ha dato mi ha dato misura di 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 quanto è importante investire chi sa più di noi e ha meccanismi e a strumenti di intervento pratici sul campo no di aiuto quanto è importante passare il testimone a proposito di di concetto di di testimoniare di testimonial come ruolo non lo sono soltanto io testimonia non siamo tutti quanti noi quando siamo in grado di vedere e certe volte non vogliamo vedere perché preferiamo guardare il tramonto prenderci l'aperitivo gli amalinghi e non sapere che a tre quattro chilometri dietro nell'entroterra c'è chi muore di fame essere interconnessi con il mondo avere la il senso di quanto questo mondo possa darci in termini psicologici affettivi di crescita umana significa non guardare soltanto la direzione ma guardare a 360 gradi globalmente tutto quello che succede e un occhio vigile sulla salute sul campo e ciò che veramente fa la differenza rispetto a questo una come dire riflessione che mi viene proprio in questo momento esatto mi viene da pensare no ma quando appunto l'arte è accanto all'impegno della società civile no a volte ci si può sentire anche molto scomodi no perché la società civile spesso è come dire a questo ruolo scomodo all'interno della della collettività umana perché comunque pone delle questioni mette sotto la lente di ingrandimento appunto dei limiti problemi di un sistema mondo che tra l'altro sembra andare sempre di più no verso l'aumento delle disuguaglianze delle discriminazioni perché un altro per esempio delle delle questioni che sono legate alla salute e alle diciamo pandemie che possono scoppiare il fatto che poi non è il caso del covid perché in questo caso diciamo ha delle come dire anche delle delle cause diverse però se pensiamo a una pandemia come quella dell'hv dell'eds che significa ancora oggi discriminazione stigma verso chi è affetto da quella da quella malattia no e cosa vuol dire in questo caso diciamo all'interno di un mondo come quello dello spettacolo dell'arte che è questo che vediamo con te ma anche tanto altro molto altro che vuol dire diciamo non sentirsi scomodi e soprattutto una domanda che ti faccio perché l'altro giorno commentavo sempre con un cooperante che riflettendo su quello che è avvenuto in questi mesi lui diceva forse possiamo dire con fiducia che non c'è stata una come dire un mettere le mani in chiave di business sull'emergenza covid nel senso che nessuno ha provato a speculare questo lui lo diceva da parte diciamo come diciamo con gli occhi di un cooperante rispetto invece al sistema media al sistema spettacolo che sappiamo quanto invece è capace di speculare su certe questioni secondo te il covid ha insegnato qualcosa anche a questo mondo che frequenti molto più te che noi oppure invece c'è sempre poi chi è scomodo e chi invece come dire su tutta una serie di vicende in qualche modo prova a metterci un fiocchetto di opportunismo no ma i fiocchetti ce ne sono stati tanti pure troppi anche dalle istituzioni che ci hanno definito simpatici e divertenti che facciamo divertire anche questo è sicuramente un aspetto buono buonario che siamo disposti anche a coprire come giù i famosi giullari no perché gli artisti sono anche nascono anche un po' per quello no però le responsabilità cadono non sull'arte ma sugli artisti come esseri umani cioè l'arte di per sé io credo non abbia l'arte la creatività di per sé non ha una responsabilità diretta perché dovrebbe essere libera da ogni tentativo di didascalico di didattico e etico morale eccetera l'arte è libera ma gli artisti in realtà come canalizzatori non sono così completamente no liberi dalla responsabilità che la vita li investe come esseri umani siamo esseri umani che hanno degli strumenti diversi da quelli che hanno per esempio i politici o che hanno gli ingegneri gli architetti chapeau abbiamo altri strumenti altri canali e attraverso questi canali così come la politica così come l'ingegneria veicola attraverso questi canali opere per far sì che la società migliori perché la visione quella di un di una crescita soprattutto dell'umanità in termini di 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 maturità così noi probabilmente come artisti avremo dovremmo avere lo stesso ruolo abbiamo lo stesso tipo di responsabilità ma più come esseri umani cioè questo elemento dell'umanità ci rende simili del proprio pianeta la crescita ma inteso in termini non economici naturalmente ma di coscienza e di sviluppo dell'umanità sviluppo spirituale mi viene anche da dire il covid ha scoperchiato in questo senso caso di pandora ha posto veramente l'accento sul ruolo degli artisti nella società sono un orpello sono l'elemento che può essere tranquillamente sostituito essere sostituto perché è inutile c'è una forma cioè superfluo oppure abbiamo veramente un ruolo questo lo possiamo decidere anche noi stessi artisti dipende da come usiamo i nostri canali nostri strumenti ci sono alcuni che si occupano di un puro intrattenimento e anche questo ha un valore milioni di ore migliaia di ore in clausura sono forse state più sopportabili attraverso la lettura di un buon libro l'esame di un bel quadro una bella canzone che hai in testa o la riflessione su dei concetti che derivano da da un'immagine ma oltre a questo oltre a questo momento particolare c'è il nostro ruolo nella società che è importante quanto tutti gli altri se noi non pensiamo la nostra società semplicemente come produttiva e in crescita economica quindi il covid in questo momento su più fronti e non da ultimo sul fronte dell'arte pone l'accento sul fatto che tutto quello che facciamo non deve essere veicolato da una visione speculativa e speculatrice quindi economica di 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 crescita delle risorse c'è tanto molto altro io ricordo quanto per esempio nell'islam di nei robi in cui ci sono anche delle patologie gravi ci sono malattie contagi anche in tempi non sospetti e non parlo di questo di questa ultima pandemia in situazioni promiscue ci sono dei problemi legati proprio alla alla salute come i dispensari o i piccoli centri che si occupano proprio di del primo soccorso siano fondamentali ma io ho visto anche quegli stessi giovani perché stiamo parlando per esempio il continente africano fatto da popolazione molto giovane rispetto all'europa gli altri continenti io ho visto cambiare in termini proprio fisici i ragazzi se portati in situazioni in cui potevano esprimersi come artisti come cantanti come danzatori come pittori cioè come la creatività è molto alleata alla salute a proposito se diciamo che la salute al centro di tutti gli interessi del nostro globo così l'arte per rispondere alla tua domanda è un alleata molto forte è una grandissima aiuto rispetto cioè il connubio salute e creatività fa di pari passo questo significa che impone la nostra riflessione cioè ci impone una visione di filosofia della medicina non semplicemente salute in termini biologici legati alle scoperte ma proprio di visione del mondo filosofia della medicina significa che tu non puoi scorporare la tua psiche dal tuo corpo e si ritorna alla visione globale se siamo degli individui e degli esseri un organismo complesso e per complessità parlo di ricchezza allora la nostra mente il nostro stato psicologico è dipendente da quello fisico e viceversa questo vale su piccola scala ma anche su grande scala tutte tutto quello che ho visto sul campo mi ha insomma questo e mi ha sicuramente responsabilizzato e mi ha regalato mi ha dato un grandissimo dono mi ha fatto capire che veramente una canzone se non può cambiare il mondo può fornire un degli strumenti agli esseri umani per cambiare il mondo infatti a proposito di questo volevo chiederti appunto perché il covid come dire dovrebbe aver insegnato a questo punto diciamo quello che sta avvenendo anche poi in queste ultime settimane perché in realtà diciamo è una situazione in cambiamento continuo ogni giorno c'è un pezzo di mondo che sembra guarire del tutto un altro che si riammala quindi stiamo ancora completamente dentro no questa questa situazione e probabilmente però una delle riflessioni che dovremmo ormai aver fatto tutte e tutti quanti e diciamo essere arrivati anche come dire a un filo rosso comune il fatto che o ci prendiamo cura del mondo in maniera collettiva oppure non usciamo anche da un'eventuale nuova pandemia un nuovo virus che potrebbe arrivare e prenderci di sorpresa così come ci ha preso di sorpresa il covid e quindi mi viene da pensare che questa cura del mondo in chiave collettiva significa intanto una redistribuzione di questa cura e qui penso sempre al fatto che poi c'è un pezzo di mondo che si prende molto più carico soprattutto del lavoro di cura penso alle donne diciamo in assoluto per quella anche della mia formazione intellettuale politica penso alle classi di lavoratrice lavoratori più umili che di fatto poi sono quelli che mandano avanti questo mondo perché si occupano di tutta una serie di mestieri e portano avanti le catene di montaggio che poi come dire alimentano tutto diciamo il consumismo che porta avanti questo questo mondo e mi viene da pensare che che diciamo tanta è questa necessità di di curare il mondo tanto è però il dolore che in questo momento stiamo attraversando ancora stiamo come dire una situazione di ferita completamente aperta e allora chiedo a te appunto come come artista secondo te in che modo l'arte può diciamo prendersi cura di questo dolore anche anche solo in minima parte proprio perché poi ognuno deve fare la propria no di di parte però dal vostro punto di vista dal tuo punto di vista quale può essere diciamo uno strumento che non è la parola come quella che ci stiamo come dire scambiando noi in questo in questo pomeriggio ma quale può essere lo strumento diverso per alleviare il dolore ma io nel mio piccolo i concerti e gli interventi che faccio sono sempre un po maniera anche inizialmente inconsapevole rivolti ad una al disegno quasi progettuale di un rito è un rito collettivo un rito in cui in questo caso la musica diventa uno strumento per cui tutti colleghi a qualcosa di assoluto c'è qualcosa che al di sopra del particolarismo della tua vita dei tuoi problemi e del circuito asfittico in cui perdi la visione generale delle cose cioè la musica in questo caso ma qualsiasi forma d'arte ti aiuta a trascendere i tuoi problemi e a vederli in realtà come risolvibili perché piccoli se tu ti fai partecipe diventi tu stesso parte di un rito che la creatività e l'arte offre a prescindere dal ruolo di artista performer e di spettatore perché le cose si fanno insieme no noi non saremmo non avremmo lo stesso tipo di potere di canalizzazione se non avessimo anche un pubblico a cui raccontare con cui condividere tutto questo quindi queste parti insieme concorrono a una visione abbiamo l'abbiamo detto all'inizio globale nel senso più squisito del termine ma mi viene da dire universale prendendo addirittura abbracciando in un unico gesto le stelle le galassie e tutto ciò che sembra immensamente più grande di noi l'idea che non siamo soli col nostro dolore con la nostra produttività il nostro pil e i nostri piccoli problemi di crescita o decrescita ma l'idea che facciamo parte di un intero universo che si muove come una macchina luminosa unica è un grandissimo dono che la musica e l'arte ci offre perché magicamente c'è uno switch un click attraverso cui è come se noi ci mettessimo sulle spalle dei giganti e il nostro sguardo si 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 dilata questo è l'inizio di una guarigione non possiamo pensare e noi parliamo di salute agli esseri umani come dei malati cronici in una cura cronica noi dobbiamo pensare iniziamo a pensare ai popoli agli amici ai parenti a noi stessi come potenziali esseri umani che guariscono noi dobbiamo pensare non tanto alla salute ma alla guarigione perché poi anche la cura può essere un strumento di coercizione uno strumento anche di schiavitù della psiche e del corpo non possiamo pensarci come dei malati cronici l'arte anche nei piccoli momenti in cui si crea quel magico momento di 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 appunto di elevazione ti fa vedere la guarigione te la fa intuire quando succede nei concerti quando succede nelle gallerie d'arte quando succede tra due persone gli esseri umani che parlano con tra di noi mettiamo a disposizione la nostra creatività le nostre parole la nostra voce il suono la nostra voce ecco allora significa che c'è quell'elemento magico che rende veramente particolare ogni essere umano siamo potentissimi basta scoprirlo e un regalo ce lo faresti per chiudere questo dialogo insolita essendo come dire un dialogo tra due personaggi bizzarre tra le varie cose che ci sono attorno vicino al mio nome a parte italo etiope italo africana eccetera c'è scritto cantante o cantautrice oltre alle altre cose che faccio devo dire che la voce è uno strumento che è alleato con cui certe volte no si si operano questi riti di guarigione almeno temporanea c'è un canto a proposito di di suono no di suono che che si allea alla nostra psiche c'è un canto con cui io inizio molto spesso i concerti è un canto legato alla visione del vento a proposito di assenza di di confini no perché quando io canto in lingue che non si comprendono parlo di di storie lontane eccetera io provo tendo a superare quei confini allora se mi viene in mente un elemento della natura che veramente supera i confini e quello in maniera molto veloce è il vento il vento veicola lo spirito il vento veicola e nel nell'immaginario forse più collettivo di tutte le religioni e veicolo di spirito di pensiero nella forma più alta no del termine allora ho pensato ma che che qual è il suono tra il vento e lo spirito è una specie di uccello che 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 libera le ali e fa così più o meno grazie a tutti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e spero che non ci siano stati problemi tecnici che non abbiano fatto apprezzare e godere a chi ci sta guardando dall'altra parte visto che noi da qui non vediamo nulla e quindi non abbiamo idea della platea che abbiamo di fronte e ringrazio Sabah, Sabah Anglana, la testimonial del Network Italiano Salute Globale per essere stata con noi oggi pomeriggio Grazie, grazie. Viva il Festival della Salute Globale! Viva il Festival! Lunga vita il Festival! Ringraziamo il Festival che ci ha ospitato, poi appunto faremo un montaggio di questo pomeriggio e sarà sia sul sito del Festival della Salute Globale che del Network Ringrazio anche l'aiuto alla regia che ci ha comunque assistito in questo pomeriggio e il prossimo appuntamento, il prossimo dialogo sarà lunedì prossimo 22 con Giovanni Vecchi e Giuseppe La Terza che parleranno di economia nel post-epidemia e quindi buona serata a tutte e tutti e arrivederci alla prossima puntata Grazie a tutti!